Ciao, sono Carolina. Ciao, sono Flippo. Oggi vi presenteremo i dialoghi al ristorante. Dialogo 1 Siamo pronti? Posso prendere il vostro ordine? Sì, naturalmente. Ma prima vorremmo sapere che cosa ci raccomanda. Oggi consigliamo il nostro piatto principale, pollo grigliato. Beh, allora io vorrei questo. Per il mio amico, riso con gamberetti. E che cosa vorreste bere? Un bicchiere di vino per il mio amico e un succo d'arancia per me. Qualche altra cosa? No, è tutto. Grazie. Posso prendere i vostri piatti? Sì, prego. Un dessert? Beh, forse una torta al cioccolato. Possiamo chiedere il conto, per favore? Certo. Contanti o carta? Carta. Sono 40 euro in totale. Grazie mille. Arrivederci e a presto. A presto. Dialogo 2 Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Un tavolo per tre, per favore. Certamente. Seguitemi, per favore. Ecco il menu. Grazie. Volete ordinare qualcosa da bere prima? Sì, una limonata per me, per lui una coca cola e per lei una tozza di tè. Cosa ci consigliate da mangiare? Come antipasto vi consigliamo una bruschetta con pomodori o una zuppa di verdure. Come piatto del giorno consigliamo la bistecca con cipolle, pollo alla griglia, con insalata o salsiccia e patate. Io vorrei una zuppa di verdure e pollo alla griglia. Per i miei amici, pure una zuppa e salsiccia e patate. Subito. Tornerò con il vostro ordine tra pochi minuti. Grazie. Ecco la zuppa. Buon appetito. Grazie. Possiamo chiedere il conto, per favore? Subito. Pagerete in contanti o con la carta? In contanti. Sono 60 euro in totale. Eccoli qui. Tengo il resto. Grazie mille. Speriamo di vedervi presto. Grazie. Arrivederci. Dialogo 3 Buonasera. Buonasera. Abbiamo una prenotazione per stasera. Il suo nome, signore? Francesco Salinas. Sì. Giusto. Seguitemi, per favore. Ecco il menu. Grazie. Cosa vorreste ordinare? Come antipasto, un'insalata mista con le uova e una zuppa di funghi. Come secondo, spaghetti con gamberoni. Qualcosa da bere? Una bottiglia di vino, per favore. Vino rosso o vino bianco? Bianco. È una bottiglia d'acqua. Naturale o gassata? Gassata, per favore. Gradite il dolce? Io vorrei una torta di banane. E per lei una torta di mele. Ovviamente. Qualcos'altro? No, grazie. Vi è piaciuta la cena? Sì, era buonissima. Potrebbe portarci il conto, per favore? Certamente. Pagherete in contanti o con la carta? Con la carta. Sono 100 euro. Ecco la ricevuta. Grazie per essere venuti. Grazie a lei. A presto.